Oh eccoci qua ragazzi dai ecco il nostro personaggio oddio e tu che vuoi via spari animale Sto alleno del merda guarda ma faccio il razzo ok sto scherzando sto scherzando signori Allora l'impero ha perfettamente ragione ok dicevamo prima di farci odiare da tutti Ok dobbiamo andare per di qua Ah avevo visto che c'era qualcosa di lucidante Si volevo letto vedere che c'era Com'era per scendere la madonna non era così però Cazzo Ferro silvano Ok Comunque ci servono dei materiali Ah si se riesco a farlo Sono tutte di interazione sono tutti con lo stesso tasto Ok Ah vedete vedete non posso So Ok Ora Hey Stai bene Non mi trattano Non mi ha avuto C'è un altro modo Di alcune Si vedi te Vedi 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 ok ok see what they've got great ok 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 All right, distract him, Nyx. Enviva, this is not amusing! You cannot do that! Oh, my God. And now, how do I do? Now you understand, because... Oh! But what's funny? C'è un po' che c'è? Emo? eh lo so eh ce l'abbiamo scarsa come famo forse ho un'idea via 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 lo sta danno la cosa ma aspetta non è lì aspetto detto bene no è qui ma dai lol i better just stop i've been told you arrived there's a way in on the second floor terrace it will take you where you need to go uh ok how long have you been watching me right i wonder what kind of clients are in this town i wonder what kind of clients are in this town i don't know a waste of dancing with the emperor is the first time i don't want to take you longer it's show time buddy no ma dai mi hanno fregato perchè ho fatto una corsa e mi hanno sgamato per quello mi hanno sgamato per quello mi hanno sgamato cioè complessivamente era una stronzata solo che ho accelerato correndo e quindi giustamente mi hanno sgamato ho sbagliato io perchè sono io che guardi che girano ho sbagliato ho sbagliato sbagliato il ok non credo che non credo che non credo che se no devo farli fuori ecco le azioni furtive ma dai non me l'aspettavo questo fra tutte le cose non me l'aspettavo stai fokest impress the boss keep it together i hear you time to distract them x ma dai volevo fotterlo sai che è pariata niente ho sbagliato ci volevo provare così me li toglie tutte e due però credo che non li devo ammazzare manco non li posso far ci stavo sperando troppo signor un giorno a un tempo non mi lascia la guardia sì qualcuno ha fatto a un tempo ma io devo andare per di là allora un altro discorso non mi lascia è molto bello, non? No è bello che è che è è è è che non li avevo visti proprio non li avevo visti proprio scusa non volevo, mannaggia è un po' tosta perchè non li posso eliminare se non mi sgamano però è interessante vedete non farmi scoprire proprio non li posso manco eliminare ho capito niente perchè il mio obiettivo è arrivare fino a lì mannaggia eh ma vedete ora perchè poi dobbiamo avere un buon rapporto così possiamo passare un po' in aree generiche eh vedete vedete perchè quelli sono quarti e non li possiamo anche avvicinare non 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 e e Distractive Nix That's all right Get lost, get out of here Yeah, okay Okay It's a bit of stronzetti, here Well This looks like the way in That's all right Ok, Nix. Ok. Ora, come dobbiamo arrivare qui? Cosa vedete? Ora, come dobbiamo arrivare qui. Ah, ok. That lowered a turbolift. Hey buddy, hit that button. Oh, ok, this will work. Figo, no, comunque è molto... Ho avuto un momento di panic, questa ho per fare una cazzata. Nooo, non ti aggiardare. Mamma mia. Ah, apriti, dimmi. Buono. Ok, cosa possiamo fare qui, Nix? No, non ci ho aspettato. No, non ci ho aspettato. Nix, guarda questo per me, ok? No, non ci ho aspettato. No, non ci ho aspettato. No, non ci ho aspettato. Scusate ragazzi Totalmente concentrato Ok Vabbè andiamo This pike operation looks huge They must have a sweet deal with the Empire There's the tower That energy barrier might be a problem though Ok Nix, we can go loud now If we gotta What do we got now? What the hell? Aspetta Devo fare fuori il più possibile Mamma mia Abbastanza ignorante Sono stupido Evolution normale Ma ho preso Il peggio del peggio Ma ho preso X, go fetch ah, what is that supposed to be Ok, chissà perché tutta questa aree è nascosta. Ok, chissà. Nix. Blow that up. No, 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 no. C'è un'altra di queste cose. Warracchali ah ho guardato dove era ma se io l'ho buttato in giù per le scale sai che pariata fallo arrivare qui maledetto tanto so che odio a me mi fa ridere che gli rubiamo pure sempre la granata oh oh ah 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 adicare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 questo è stato un po' di più si perdono! si perdono! si credo che siamo sicuri attivando l'alarm è vero è stato tardi questa allarme non è nulla è qui un'altra parte è qui! è qui! guarda! guarda! Che palle ragazzi è andato così tutto bene stava andando Che c'è l'aria! Che c'è l'aria! Che c'è l'aria! Che c'è l'aria! Come on! Block the exit! Yes! I see her! There! They're coming for us! Cover the access! Yes! Run in there! She is on board in! Take her out! Mike! Oh! It's locked! It's locked! Não! Não! No! No! Oh no. Grazie a tutti Vieni, muoviamo! Ho sentito! Stop! Lei è fuori! Finita! No! No! Yes! Huh? Take her off! Go after her! Chai! You will die for him! You will die for him! To investigate! The pikes show no mercy. She's here! Keep moving, Nick! They're headed for us! Keep shooting! Stop her! She's here! We're pinned down! Take her off! There she is! Come on, this way! Kill him! Get moving! Get back! We did it! Who cares if they fall? Get in! No! Not better get away! Move forward! Oh, wow. Oh, wow. What is this? Oh, wow. Oh, wow. What is that? Whoa, wow. Oh, wow. No! 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 No, no! No! Oh, no! Come si disabilita quella cazzo di armi? Come si disabilita quella cosa? Quella cazzo di armi, quella cazzo di armi mi sta stancando con la trappa, e vabbè di nuovo. Disattiva, dimmelo che era qui cazzo. Oh no, stop! Deal with her! Cover the exit! Understood! Stand your ground! There she is! Marona! Era di fianco a me, non l'avevo mai... non l'avevo mai... Oh! Adesso è una patata! Una patata che è difficile! Move in! Move! In meata! The bikes do not forgive easily! Come on! Come on! Ok... Ok... Finito? Era lui un'allarme Non è stato difficile Non ho fatto una strage di più Ok, file, bisogna trovare un terminal Comunque ho fatto una strage di deficiente prima Io non voglio dire nulla però Non voglio dire nulla Molto interessante con questo trucco Comunque è la cosa che fa R2D2 Praticamente complessente è quello che fa R2D2 E perdi tempo a farlo bene Eh ma lo devi fare in un certo modo preciso Oh, che par... Maronna Guarda Stavo a sudare per farlo Stavo a sudare per farlo Stavo a sudare per farlo Ah però... Oh, tosta Finchia Con il cacchio fa R2D2 ha fatto questa cosa Assurdo Sì, è veramente particolarmente qua Un secondo signor Sì, è veramente particolarmente qua Ah, come qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi qua, scusate ragazzi, volevo cercare di... ce la faccio a rubare queste cose? Dai, l'ho forse quasi fatto. La seconda me non si può rubare. Stai a perdere il suo tempo. Madonna, ragazzi, oh. Cioè, io perderò tempo qua fino a quando a capire che cosa devo fare. Oh. Oh, no, 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 no. E' un po' tosto capire. Oh, oh mio Dio. Minchia, che culo. Oh, no, no. Questo sistema ha un'allarme. Il file è solo una ricetta bocchka. Mi si trattava? Ok, ok. Mi farò questo per il mio tempo. Oh, un file ingruttivo. Allora. Allora. Ok. Ok. Sì, allora. Piccadina 음eno. And there's the alarm. Well, at least we got something. What'd we get into, buddy? They've blocked down the elevator. Okay, okay. We can climb. Don't worry, Nick. The next job will be better. Okay. Okay. Yeah, it's gonna put out a bath. Huh. There's no room. Whoever triggered that alarm is inside. Seal the doors. Everything's locked down. Next? It's showtime. I'll catch that thing. Need a distraction, Nick. Never seen something like this before. Pick up the door. What's your problem? That's it. That's all that happening. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.